da memoria. Saluto Diego Fusaro, filosofo, bentornato. Caro saluto a Diego Fusaro. Allora, che non è candidato. Le hanno chiesto di candidarsi? Io mi limito a dirigere un'associazione culturale, l'interesse nazionale, e poi con la mia coscienza sono candidato nel partito presocratico, cioè per il ritorno della filosofia al centro del dibattito. Ecco, ma qualcuno le ha chiesto di candidarsi? No, io mi astengo volutamente. No, no, mi le hanno chiesto. Lasci stare se ha detto sì o no. Anzi, ha detto no. Ma effettivamente no, ma no. No, no. Allora, nessuno voleva Fusaro nelle proprie liste. No, più che altro ho detto che io li fustigo tutti, è difficile che poi... E quindi dice chi è che mi chiede la candidatura. Allora, pubblicità, facciamo il punto.